Ciao a tutti amici di Focostar e benvenuti alla nostra accensione della Fujifilm Instax Square SQ1 la nuova entry level delle fotogamere istantane di casa Fujifilm in vendita a circa un prezzo che si aggira a toni 116-117€ direttamente su Amazon naturalmente non in offerta, è disponibile in varie colorazioni e il suo aspetto principale è la possibilità di appoggiarsi ad un formato più grande rispetto a quello delle altre Fujifilm Instax adesso comunque la vediamo da vicino, vediamo anche tutti i test che abbiamo fatto con pellicole a colori e pellicole in bianco nero e ne prendiamo dopo la nostra sigla le dimensioni della Square SQ1 sono abbastanza elevate perché raggiunge 130,7 x 118,6 x 57,5 mm di spessore con un peso di 390 grammi senza pellicola e senza batterie è una camera realizzata interamente in plastica la quale non presenta pulsanti particolari, abbiamo solamente il pulsante di scatto che è posizionato direttamente sull'impugnatura la quale non è particolarmente profonda, è forse fin troppo attaccata all'obiettivo che come potete vedere è molto ma molto grande e quindi non lascerà lo spazio necessario per il posizionamento delle dita tra l'impugnatura e l'obiettivo stesso è comunque un'impugnatura zigrinata la quale potrà essere tranquillamente utilizzata anche con mani bagnate e permetterà una presa abbastanza salda purtroppo il posizionamento del pulsante è molto scomodo perché abbiamo un pulsante sensibile e nel momento in cui anche con macchina accesa noi andiamo ad imbracciare la camera potremmo rischiare di premerlo e quindi di andare a bruciare uno scatto sempre nella parte anteriore abbiamo il flash led il quale è automatico, non può essere rimosso dagli scatti e si attiverà sempre da solo sfruttando il sensore di luminosità che è posizionato esattamente di fianco all'obiettivo spostando l'attenzione nella parte posteriore, ricordando che comunque sempre anteriormente abbiamo anche un led di funzionamento qui troviamo l'alloggiamento per le pellicole che a differenza di altri modelli sono di 86 x 72 mm e permetteranno di ottenere uno scatto di 62 x 62 mm con possibilità di scatto a colori o in bianco e nero e vanno posizionate esattamente all'interno dell'alloggiamento il quale è apribile con questa semplice mollettina che devo dire essere molto ma molto semplice mentre sulla parte destra abbiamo la finestrella dal quale vedere quanti scatti rimangono anche in questo caso è molto comoda soprattutto per capire quanto possiamo ancora utilizzare la camera prima di dover sostituire la pellicola mentre sempre sul lato destro sotto l'impugnatura abbiamo una negatività di questa macchina ovvero le pile sono pile che non sono le classiche stilo che vediamo quotidianamente sono pile un po' particolari e nel 2021 sicuramente avremmo preferito una batteria ricaricabile in questo caso le pile garantiscono una durata di circa 20 scatti e poi dovranno essere sostituite sicuramente un aspetto negativo superiormente troviamo il mirino viewfinder e un mirino ottico con ingrandimento 0,4x all'interno abbiamo anche il mirino che ci permette di capire qual è il centro dell'immagine però dovete stare attenti perché è leggermente spostato rispetto all'otturatore o comunque all'ottica stessa e quindi dovrete valutare bene l'inquadratura prima di realizzare l'immagine superiormente abbiamo l'alloggiamento dal quale esce l'istantanea mentre nella parte anteriore abbiamo un sistema di funzionamento molto molto semplice perché non abbiamo visto alcun pulsante di accensione e spegnimento per accenderla basta ruotare l'ottica e sfruttare le due uniche modalità modalità on la quale permette di avere una messa a fuoco da 50 cm in poi e la modalità selfie questa modalità può essere utilizzata per realizzarsi un selfie sfruttando il piccolo specchietto a fianco dell'ottica il quale è comodissimo proprio per capire quella che è l'inquadratura ma può anche essere utilizzata per realizzare macro perché permette una messa a fuoco proprio per la sua modalità di utilizzo che uscirà tra i 30 e i 50 cm l'otturatore è completamente elettronico con un tempo di scatto da un quattrocentesimo di secondo a circa 0,5 secondi l'esposizione è automatica come naturalmente anche l'utilizzo del flash il quale permetterà di avere una buona illuminazione di soggetti che oscilleranno tra 0,3 e 2,2 metri quindi non pensate di utilizzare questa macchina per scattare istantanea a soggetti al buio molto più lontani delle distanze che vi ho appena raccontato adesso comunque vediamo alcuni scatti che abbiamo ottenuto sia a colori che a micro nero con tutti i nostri test per capire come utilizzata e quali sono le rese di questa square sq1 prima di tutto valutiamo quelli che sono gli scatti a colori qui abbiamo fatto una macro con sole diretto quindi luce solare molto molto forte e vedete che abbiamo ottenuto dei buoni colori, un buon dettaglio ed una buona nitidezza stesso discorso ad esempio con un selfie quindi luce solare direttamente in viso vedete che tende effettivamente forse un po' a sovresporre il soggetto in questo caso vedete come siamo illuminati in termini proprio di viso e effettivamente mi va un po' a bruciare quello che è il soggetto stesso andando a preservare più il contorno che direttamente il soggetto proseguendo sempre negli nostri scatti a colori abbiamo stessa situazione ma senza luce solare diretta quindi in questo caso noi avevamo una giornata nuvolosa e vedete che la tendenza facendo anche il confronto con lo scatto precedente a sovresporre quello che è il soggetto è un po' più ridotta e in questo caso l'immagine è andata a preservare più il soggetto che la parte posteriore come effettivamente avrebbe dovuto fare i colori sono un po' più spenti ma chiaramente la situazione era anche differente stesso giorno quindi immagine con giornata nuvolosa vedete come in questo caso però l'immagine sia molto molto ben fatta perché abbiamo una messa a fuoco che naturalmente porta ad un soggetto più lontano rispetto alle precedenti e i colori sono sicuramente più precise ben fatti e abbiamo anche un ottimo dettaglio un'ottima nitidezza quindi in questo caso la resa è stata sicuramente migliore con una situazione di questo tipo proseguendo con gli scatti all'interno qui abbiamo qualche piccola difficoltà perché qui abbiamo utilizzato la modalità selfie quindi messa a fuoco da 30-50 cm prima di tutto vi faccio vedere qualche piccolo errore che si può fare perché abbiamo in questo caso l'ottica che è più spostata rispetto a quello che è il mirino quindi nel momento in cui noi andiamo a mirare con il mirino non ci accorgemo in alcuni casi che l'ottica è più spostata e quindi rischiamo come vedete in questo caso di non avere bene a fuoco il soggetto o meglio al centro del nostro scatto in particolare comunque i colori sono ben fatti ben riprodotti è stato utilizzato il flash in automatico ed è sicuramente un'immagine abbastanza ben fatta in linea chiaramente con le aspettative sempre proseguendo con le immagini che abbiamo realizzato qui abbiamo una giornata nuvolosa all'aperto vedete che nel momento in cui noi abbiamo il cielo che era tutto bianco mi va effettivamente un po' a bruciare e a un po' sovresporre le immagini andando a non avere particolare dettaglio dei colori più scuri che erano individuati in questo vialetto quindi deve stare un po' più attenta e bisogna stare più attenti nel cercare di avere l'inquadratura perfetta per evitare che le immagini vengano direttamente bruciate questi sono altri due errori che si possono fare ve li faccio vedere uno di fianco all'altro nel momento in cui noi andiamo a realizzare uno scatto ad un soggetto particolarmente vicino sempre a colori sempre con scarsa luminosità vedete che in entrambi è stato attivato il flash dovete stare attenti perché in questo caso non abbiamo attivato una modalità selfie e si può vedere come effettivamente la messa a fuoco non sia perfetta il soggetto, in questo caso il gattino, non è a fuoco e avremmo dovuto attivare la modalità selfie e siamo andati a bruciare e a sprecare uno scatto e quindi bisogna prestare attenzione perché se volete fare anche una macro in questo caso non particolarmente vicina perché eravamo a circa 40 centimetri ma vedete che la messa a fuoco non è ben fatta e quindi richiedeva l'utilizzo della modalità selfie qui invece abbiamo uno scatto sempre normale a chiuso, senza modalità selfie con una distanza di circa un metro dal soggetto e abbiamo una buona riproduzione dei colori un buon sviluppo dell'immagine e abbastanza dei tagli ben definiti infatti in contraposizione con quello che vi dicevo prima qui abbiamo lo stesso scatto allo stesso soggetto ma con messa a fuoco sfruttando la modalità selfie quindi non abbiamo più attivato la modalità standard siamo andati in modalità selfie siamo circa a 30-40 centimetri al soggetto e questo è il risultato ed è complessivamente sufficiente ben fatto e ricorda chiaramente le immagini di una volta ora noi siamo passati direttamente sulla pellicola in bianco e nero vediamo prima di tutto un'immagine al chiuso con scarsa luminosità e con l'utilizzo di un flash e in questo caso modalità selfie automatica la messa a fuoco è stata perfetta abbiamo colori molto molto belli ed un dettaglio complessivamente soddisfacente se poi vado avanti qua mi sposto all'aria aperta sempre modalità selfie quindi un amaco su una piantina di salvia forse qui fa un po' più di fatica nella messa a fuoco perché abbiamo tanti punti dove potremmo effettivamente mettere a fuoco noi non possiamo scegliere cosa mettere a fuoco e cosa succede? Succede che il dispositivo ne sceglie uno qualunque e lo mette a fuoco e va effettivamente a creare un po' di confusione quindi utilizzatela solo nel momento in cui avete ben il soggetto definito da mettere a fuoco altrimenti fa un po' di fatica qua andiamo esattamente al contrario rispetto a prima quindi abbiamo attivato la modalità selfie all'aperto e non avevamo un soggetto particolarmente vicino vedete che l'immagine risulta di essere completamente sfocata quindi in questo caso abbiamo notato come effettivamente la modalità selfie non possa essere utilizzata con soggetti non particolarmente vicini proseguendo nelle nostre immagini qui abbiamo l'altro errore che vi raccontavo prima infatti noi qui avevamo un piccolo panda da mettere a fuoco e dal nostro merino ottico sembrava centrato ma essendo l'obiettivo spostato più sulla sinistra siamo andati a bruciare uno scatto perché non siamo riusciti ben a inquadrare il soggetto quindi prestate attenzione a questo fatto nel momento in cui pensate di realizzare scatti su soggetti particolarmente vicini arriviamo a quelli che sono i selfie con la modalità o comunque con le pellicole in bianco e nero questo è uno scatto al chiuso con scarsa luminosità e come si può vedere con l'utilizzo del flash vedete che come viene ben messo in dettaglio e nitido il soggetto e va sicuramente a scurire di più la parte posteriore in parallelo vi faccio vedere uno scatto all'aperto senza flash con una giornata nuvolosa e quindi non senza luce solare diretta vedete che la differenza almeno non so se dalla camera si vede è notevole perché in questo caso abbiamo un livello di dettaglio e di nitidezza superiore rispetto allo scatto al chiuso sono complessivamente entrambi soddisfacenti però devo dire che ho apprezzato davvero tanto questo scatto in quanto il livello di dettaglio e di nitidezza del volto in particolare degli occhi perché purtroppo indossavo la mascherina è notevole superiore a tante altre immagini gli ultimi scatti che vi faccio vedere sono stati realizzati all'aperto sempre con una giornata nuvolosa e sempre senza l'utilizzo di flash sono sicuramente scatti che ricordano quali che erano le immagini di una volta soprattutto se siete relativamente giovani dei vostri nonni o anche solamente dei vostri genitori e devo dire che hanno un buon livello di dettaglio chiaramente non abbiamo colori perché sono in bianco e nero e una nitidezza eccellente quindi davvero molto ben fatta ma solo in determinate naturalmente condizioni e con le precauzioni che riuscite a raggiungere nel momento in cui sapete come effettivamente si può utilizzare questa macchina in conclusione questa Instax Square SQ1 a me personalmente non è dispiaciuta anche se naturalmente va pensata per un pubblico specifico perché nel 2021 giorno d'oggi abbiamo la possibilità di avere smartphone di ultimissima generazione che scattano istantane bellissime e fotocamere mirrorless che riescono a realizzare scatti eccellenti anche naturalmente con cifre elevate quindi nel momento in cui noi andiamo a spendere circa 116 euro per una camera istantanea non dobbiamo aspettarci lo stesso livello di dettaglio, di nitidezza e di definizione delle immagini perché chiaramente non potranno mai raggiungere gli stessi livelli che noi abbiamo su smartphone e su fotocamere in generale questo è importante e non è da dare un aspetto negativo proprio nella qualità degli scatti perché non potremmo mai pensare di raggiungere lo stesso livello detto questo pippone generico sulla tipologia di prodotto vediamo quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi il primo aspetto positivo è sicuramente l'ergonomia e l'estetica del prodotto perché è molto molto carina, ben fatta, è un po' giocosa perché chiaramente non è particolarmente seria e le varie colorazioni che Fujifilm ha pensato di attuare su questo modello sono molto belle, le trovate tutte su Amazon l'ergonomia è abbastanza ben fatta perché si imbraccia relativamente bene e non scingola, particolarmente è realizzata tutta in plastica ma devo dire che ciò che mi è piaciuto è prima di tutto lo specchietto nella parte anteriore il quale mi rende sicuramente comodo l'utilizzo in termini di scatto di selfie perché posso vedere l'inquadratura direttamente da questo specchietto e in automatico avere la possibilità di capire quale è naturalmente l'inquadratura perfetta per il mio scatto perché chiaramente non posso andare a rivederli, non posso cancellarlo e devo stare attento nella realizzazione dello scatto perfetto poi abbiamo anche una semplicità di utilizzo perché non sono presenti particolari pulsanti, non c'è un tasto di accensione basta ruotare l'obiettivo e automaticamente la macchina si accende ed è pronta per lo scatto se la ruoto due volte vado in modalità selfie poi per spegnarla devo ruotarlo ancora e il gioco è fatto quindi ergonomia e semplicità di utilizzo sono i primi aspetti positivi di questa camera abbiamo anche la presenza di una piccola finestrella nella quale vedere il numero di scatti residui è comoda soprattutto nell'idea della pellicola che non permette di scattare a scatti infiniti come siamo ad esempio abituati su smartphone in questo modo noi potremo vedere fisicamente quante pellicole istantane abbiamo ancora all'interno della camera prima di effettivamente restare senza questi sono stati gli aspetti che ho ritenuto più importanti da un punto di vista naturalmente dell'utilizzo quotidiano senza parlare di dettaglio e di qualità perché come vi ho detto è un mondo a parte e tutte le camere di Fujifilm sono ottime sotto questo punto di vista e quindi si va sui dettagli e su quali sono gli utilizzi e l'usabilità quotidiana gli aspetti negativi sono anche in questo caso purtroppo diversi il primo è il pulsante di scatto perché purtroppo è stato posizionato direttamente sull'impugnatura ed è abbastanza sensibile quindi inavvertitamente nel momento in cui noi andiamo ad accendere la camera e nel momento in cui la imbracciamo rischiamo molte volte di andare a premere il pulsante di scatto e quindi di andare a sprecare quelle che sono pellicole che purtroppo, introduciamo quello che è il secondo aspetto negativo, sono particolarmente costose perché voi avete visto pellicole a colori e pellicole in bianco e nero ma sappiate che ogni confezione di pellicole ne contiene 10 e 10 pellicole a colori o 10 pellicole in bianco e nero costano 10,99 euro quindi sta a significare che noi andremo a pagare poco più di un euro a scatto e nel momento in cui noi andiamo ad imbracciare la camera e a premere inadvertitamente il pulsante nel momento in cui è già stata accesa può davvero portare l'utente a perdere denaro e quindi sicuramente sarebbe stato meglio posizionarlo in una posizione diversa in aggiunta abbiamo anche l'impossibilità di disattivare il flash infatti è sicuramente semplice da utilizzare perché abbiamo il sensore nella parte anteriore il sensore di luminosità capisce quando attivare il flash però è negativo perché in alcune occasioni io avrei voluto casomai non realizzare uno scatto con flash il quale rischia di andare a rovinarmi l'immagine e effettivamente non posso farlo in aggiunta abbiamo anche l'impossibilità di impostare determinate impostazioni e quindi di riuscire a cucire al meglio lo scatto ma questo va detto che non è proprio un aspetto negativo perché la Square SQ1 rientra nell'entry level nonostante abbia un prezzo di circa 116 euro quindi se volete un qualcosa di più approfondito e di più ben fatto soprattutto da un punto di vista di personalizzazione dello scatto dovete andare su una Square SQ6 ha un costo leggermente superiore però è più completa sotto quel punto di vista i tempi di scatto li avete visti abbiamo una stampa in circa 10 secondi e 90 secondi all'incirca nel momento in cui dovrà svilupparsi sempre che ha uno sviluppo istantaneo poiché non è proprio una stampante come può essere un HPSP Rocket ma tanto quanto uno sviluppo istantaneo che avverrà circa in un minuto e mezzo in ultimo sempre parlando di aspetti negativi purtroppo è una camera che nel 2021 funziona ancora a pile e non sono le classiche pile che noi troviamo come possono essere le stilo AA o AAA ma sono pile abbastanza particolari le quali non hanno un costo proprio leggerissimo e in alcuni casi vi porteranno a spendere cifre particolarmente elevate sono anche pile che hanno una durata temporale secondo Fujifilm non particolarmente elevata perché sono pile che di base vi permetteranno circa di realizzare 20 scatti sempre secondo quello che dice Fujifilm e quindi in questo caso potreste dover essere costretti a cambiarle molto spesso e anche in questo caso portare a una spesa ulteriore che va ad appesantire già il costo della macchina il costo delle pellicole e il costo delle pile sicuramente avremmo apprezzato una batteria ricaricabile che nel 2021 sarebbe stato praticamente il minimo ma nel complesso è una camera comunque che funziona bene con tutti i suoi limiti come tutte le camere e tutti i prodotti che vediamo qui sul canale la quale deve essere indirizzata verso una determinata porzione di pubblico però devo dire che se siete aperti con la mente e avete comunque l'intenzione e la capacità e il desiderio di puntare a un prodotto di questo tipo può essere una valida alternativa non particolarmente costosa perché ricordiamo rientrare nella fascia entry level se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video grazie a tutti grazie a tutti